Corsa contro il tempo per cercare di bloccare l'approvazione del progetto Ombrina Mare. Due le date in programma, la prima domani all'Aquila durante il Consiglio regionale, la seconda il 14 ottobre a Roma. È già pronta questa legge studiata da esperti di diritto ambientale e diritto costituzionale. Quindi è una legge che dà degli strumenti per contrastare il progetto che altrimenti sarebbe imminente. E poi siamo qui per dire che il 14 c'è bisogno che ci venga gente a Roma. Stiamo organizzando Pullman ed è importante che la partecipazione, almeno una delegazione di quei 60.000 si faccia sentire in un modo cospicuo come presenza. E auspichiamo che la gran parte degli attori istituzionali che hanno fatto la battaglia contro, partecipando anche alla manifestazione, anche le associazioni di categoria, anche loro partecipano. Intanto domani è in programma un Consiglio regionale urgente sull'allarme Trivelle. Un segnale dalle istituzioni potrebbe essere? Assolutamente. Un segnale che parte dalla forza che ha avuto questo movimento di imporre alle istituzioni la calendarizzazione di questo Consiglio straordinario. Consiglio straordinario che dovrà decidere per l'approvazione attraverso una legge regionale di un parco marino che permetterà di bloccare Ombrina. Noi crediamo che sia assolutamente necessario in questo momento che le istituzioni facciano tutto ciò che è in loro potere. Lo abbiamo detto ad Alfonso in 60.000 a Ranciano, lo abbiamo ripetuto il 27 giugno quando l'abbiamo incontrato. Il 30 di agosto il coordinamento Ombrina ha prodotto una legge regionale per far sì che questo progetto distruttivo per il nostro territorio venga bloccato. Adesso è compito della politica di prendersi le proprie responsabilità e rispondere ai cittadini. Ci avevano promesso che avrebbero fatto tutto in loro potere e aspettiamo che domani questo avvenga.